Per me è stato un evento molto istruttivo e costruttivo perché comunque abbiamo potuto parlare di nuova generazione con delle aziende molto diverse dalla mia, generazioni più giovani, diciamo, perché io sono la sesta e nel mio caso erano la seconda o la terza che erano nel panel, però sicuramente con un bel bagaglio di competenze e di esperienza e hanno raccontato cose che porterò a casa e su cui penserò sicuramente. Se penso al retail del futuro penso appunto alla digitalizzazione. Io quello che vedo per il futuro della nostra azienda nella comunicazione è il fatto di poter rendere accessibile l'esperienza virtuale nella nostra distilleria e tutto il meraviglioso storytelling che vi riguarda.